Sì, oltre 500 milioni erogati dalla fine del 2019 al 30 giugno a 42 mila imprese agricole, fondi aiuti diretti della PAC, PSR e poi usciranno e sono già usciti bandi per sostenere le nostre imprese agricole per oltre 70 milioni di euro. Ma la notizia più importante, quella sulla quale ci siamo anche impegnati di più in questi mesi, è di mettere risorse straordinarie per il comparto agricolo e quindi 30 milioni di euro, dei quali 21 ottenuti dal Ministero delle politiche agricole e le metteremo in campo insieme ad altre risorse direttamente della nostra regione per soddisfare tutte le graduatorie in essere del PSR e che diventeranno investimenti, quindi anche posti di lavoro e occupazione nuova per il nostro territorio, oltre che investimenti per rendere le aziende più competitive sul piano economico, ma anche resilienti ai cambiamenti climatici ai quali purtroppo, come dimostrano i fatti di questi giorni, siamo sempre più esposti e sottoposti.